Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tra persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Giovedì 12 maggio, in una puntata di Virus su Rai 2 con Nicola Porro, si è tenuto un dibattito molto acceso sulla questione dei vaccini. Puntata che ha suscitato moltissime polemiche, soprattutto a seguito dell'intervento da parte del DJ Red Ronny, il quale sostiene la completa inutilità dei vaccini. Dichiarando che provochino solo effetti collaterali e che la giusta prevenzione sarebbe quella di incentivare le madri ad allattare, permettendo al bambino di crearsi delle difese immunitarie naturali e successivamente mantenendo delle abitudini alimentari sane per tutto il resto della vita, per esempio seguendo una dieta vegana. Queste parole hanno però suscitato l'indignazione del medico Roberto Buroni, anche lui ospite della trasmissione, il quale ha definito, quanto dichiarato da Ronny, uno sproloquio senza senso, diffusione di notizie false, appellandosi anche al servizio pubblico e al ministro della salute Beatrice Lorenzin, dicendo che i soldi pubblici che vengono usati per migliorare la salute degli italiani non possono essere usati anche dalle televisioni pubbliche per diffondere notizie false. Cosa ne pensa? Anche lei è d'accordo con quanto sostiene Red Ronny e quindi pensa che una prevenzione naturale potrebbe essere più corretta? Io sono per fare i vaccini, io ho allattato mia figlia a due anni però comunque ho fatto tutti i vaccini per cui sono più tranquilla, noi diciamo siamo stranieri, viaggiamo molto spesso per cui anche rincontrare altri tipi di malattie, diciamo ti rassicura un po' di più i bambini, secondo me io sono favorevole. Perché secondo lei le persone hanno paura dei vaccini? Ma secondo me proprio per la tendenza di questa cosa naturalistica tendono tantissimi esseri vegani, vegetariani, è secondo me un esperimento che i genitori fanno con i propri figli ma comunque si renderanno secondo me conto che vaccinarli è la cosa migliore. Non sono in grado di dare una risposta precisa perché non sono un medico, però ritengo che non si possa prescindere dall'utilizzo dei vaccini, visto che hanno una loro valenza medica già testata secondo protocolli validati dal Ministero della Sanità. Quindi lei è favorevole per i vaccini? Ritengo che debbano essere comunque somministrati perché sono come ho detto prima previsti da protocolli già validati. La prevenzione naturale deve essere più corretta, solo che sentendo il tizio di prima c'è molto retrato, veramente il modo di pensare anziché andare avanti si va sempre indietro e quindi zio svegliati. Ha ritratto nel senso modo molto antico e conservatore di pensare, non è ancora una visione globale del mondo, non si è ancora aspanso, è ancora in fase di evoluzione a queste persone. Secondo te quali sono i principali pericoli dei vaccini se possono avere effettivamente dei pericoli i vaccini? Alcuni vaccini sì, possono essere pericolosi, poi dipende da chi li produce, soprattutto dipende da quale tipo di malattie e tante altre cose, anche perché ingeriamo cose nel nostro corpo che nemmeno noi sappiamo. Concorda con il dottor Buroni quando dice che i soldi pubblici non dovrebbero essere spesi per permettere a persone non del settore, come Red Ronny, di dire la propria senza competenza specifica? Sì, sono d'accordo perché essendo la televisione un mezzo di diffusione rivolta alla generalità del pubblico bisogna anche vagliare le opinioni espresse su temi generali che devono essere comunque espresse da persone competenti nel settore. Sì, la questione dei soldi vanno spesi a seconda di quello che serve, non stiamo lì a contare, a misurare, anche questo è un mondo arretrato di guardare le cose, spendiamoli questi soldi.